Sono Paolo Poloniato, R&D Manager di Garmo. Vi vado a presentare il nuovo progetto di questa stagione che è lo Sticky Stone. Lo Sticky Stone nasce da una forma anatomica che viene abbinata al sistema Double Dumper. Il Double Dumper è costituito dal primo shock absorbing che va direttamente a contatto col piede ed è anatomico. Un secondo shock absorbing che viene abbinato alla suola Vibram con una funzione protettiva scatolata con gomma Mega Grip. Lo Sticky Stone ha una costruzione come dicevo con l'Ergo Last, di conseguenza con massima anatomia. Il primo damper o leva di montaggio viene inserita sulla forma e nel momento in cui si va a camminare il primo shock absorbing viene assorbito dalla zeppa. Abbiamo la versione in gore costruita con una maia in camoscio con suola Vibram anatomica e asimmetrica, un bordo in gomma di protezione. Il secondo prodotto della linea Sticky Stone è con una suede bicolore ed ha la fodera in mesh. Il terzo prodotto, costruito sempre con Double Dumper e Ergo Last, è lo Sticky Stone Cloud realizzato per la massima traspirabilità con del mesh tridimensionale con delle protezioni in gomma serigrafata e sempre suola Vibram Mega Grip. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!